ragazzi sabato ore 18 c'è il coca cola o super no ops no scusate coca cola super schiaps in torino ragazzi partita tesa dall'esito non scontato e quindi come prima partita di all'edizione quest'anno di coca cola super schiaps Juve Torino con noi e tanti simpatica bene amici rieccomi qua dopo un solo giorno dal ultimo video questa era la storia che sostanzialmente volevo vedere e praticamente chi era pessimista avrebbe e avrebbe scommesso avrebbe perso perso dei soldi e la giappa si è confermata anche quest'anno al coca cola al coca cola super super match il telecomista aveva detto giusto e si parte appunto domani con i derby di torino alle 17 45 vi ricordo che per commentare la puntata oltre che i commenti sotto i miei video su youtube esiste anche la mia pagina facebook oppure c'è anche il jalapas forum dove potete commentare in generale i programmi della o con la jalapas band tra l'altro vi ricordo ancora che domani non potrò seguire tutta la puntata per cui lascio veramente a voi i commenti ovviamente recupererò nel più breve tempo possibile perché altrimenti da zone nel giro di pochi giorni rimuove purtroppo la puntata non capisco perché debba rimuovere anziché lasciarla lì dove nel loro nel loro sito nella loro app o comunque nella loro piattaforma ma così alla prassi evidentemente quindi me ne farò una ragione quindi niente domani coca cola super match sulla zona 17 45 con la jalapas giovani bassotti di autogol ciao a tutti e buon weekend e buon weekend Grazie a tutti.